Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video A noi c'è anche un ospite che vuole stare in braccio Sì, vuole dormire Ragazzi vuole dormire qua, dormire qua Quindi è felice No, non è felice, è quello che vuole scappare da te Ok, bravo Bravo amore, bravo, guardate Così, così Comunque, dato che tantissimi ci chiedete di fare l'hai mai Oggi siamo qua per fare L'hai mai E quindi niente ragazzi Io poco fa ho postato una storia Dove ho messo il box delle domande Vi chiedo di farmi qualche hai mai E quindi niente Noi adesso sceglieremo gli hai mai un po' più piccantini Un po' quelli un po' da scoprire quello che hai fatto Quello che ho fatto E mi raccomando che se ne dire la verità Esatto, quindi bignolino Giuro, giuro, io giuro Tu devi giurare No, devi dire, devi dire Giuro senza incrociare Giuro senza incrociare che io dirò la verità anche tu Giuro senza incrociare che io dirò la verità No, no Non mi vuole lasciare il dito ragazzi Giuro senza incrociare Ma che è? Sì, fidati E come faccio a sapere che dici la verità? Vabbè, andiamo avanti Fanny ci ha lasciato Era l'ospite di questa puntata No, sto scherzando Comunque niente Andiamo direttamente alle domande Allora, ho preso il telefono E adesso vado sulla mia storia Per vedere quante domande ci avete fatto E tra l'altro abbiamo preso pure gli iPad Per scrivere sì o no Quindi siamo preparatissimi Allora, la prima la scelgo io Perché l'ho già trovata Vai, vai, vai Seconda la scelgo Vai, va bene Allora, sei pronto? Vai Hai mai bevuto così tanto da vomitare? Questa domanda è un po' così per noi veneti Allora raga Ok, via Ma sei risposta? No Io no Lei sì Adesso io no Perché rega Io non sono a stemio Allora, mi spiego Vai, spiegaci Adesso Devo spiegare Dai Vai, vai, vai Spiegaci, spiegaci Vabbè, praticamente Mi avevano invitato a questa festa Che era tra l'altro Una festa Di un mio amico Che aveva la piscina E la prima festa Quindi diciamo che io non l'avevo mai bevuto Io non l'avevo mai bevuto Quindi non sapevo come dosarmi Eccetera E praticamente Mamma per favore non guarda questo video Praticamente niente Ho bevuto due tre shottini di qua e di là E niente Non pensavo di non dover mischiare Ho bevuto un po' di tutto E quindi niente Pure succo di frutta Abbiamo scoperto che Aurix E È successo E niente Allora La seconda domanda Lo sceglierò io Uuuu Ragazzi questo non posso non sceglierlo Sì Perché sì Non esiste il perché Perché sì Hai mai fatto La pipì in piscina Ma non ti la verità Sì Ok Allora non mi guardare però Perché tu guardi Ok 3 2 1 Che sei risposto No Ma come no Io sì Io no Allora vi dirò anche il perché no Ragazzi in piscina ci sono andato pochissime volte E quelle pochissime volte che sono andato Entravo Uscivo dopo Pichissimo Perché non è che non mi piaceva È che poi ero sempre con i miei amici Quindi giocavamo un po' a palla fuori Eccetera Quindi non stavo tantissimo Però entrare in piscina Con un botto di gente Perché c'era tantissima gente Quindi immaginavo che qualcuno Ci poteva lasciare un po' di pipì Quindi Che schifo Hai risposto sì Che schifo No infatti io Io l'ho fatto E l'ammetto Perché ho detto Ho giurato Senza sgrosciare La verità Però ero piccolina Ci sono andata veramente poche volte in piscina Quelle poche volte Ci sono andata Ha fatto la pipì? No No Da piccolina l'ho fatta Poi comunque mi dava fastidio Il fatto che qualcuno l'avesse fatta Perché io non riesco Esatto Cioè io dopo ho imparato a nuotare Prima non riuscivo E quindi bevevo sempre l'acqua E quindi io mi immaginavo di bere l'acqua Che schifo? Sì cambiamo domanda No la cerco io La cerco io Tu sei carico? Sì Io sono carichissimo Ok Ok l'ho trovata Hai mai dormito fuori all'aperto? Wow il tuo primo sì Questo sì Questo sì Fuori all'aperto eh Non fuori dai tuoi amici Sì 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 Allora raccontaci E sono tanto curioso Ragazzi Allora Ero col mio migliore amico Tanti anni fa Da più o meno piccolino Oh 15 anni Ora ho avuto Ok Che venivano ad appoggiare la barca sul pontile No? Noi tipo lì Apriamo gli occhi Vediamo tipo la gente What? Cosa? La parte più strana Era il fatto che noi Avessimo Dei cuscini E faccio Cosa? 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 Vabbè Ascolta Dove le chiavi Faccio Vabbè Chiamo la tua mamma E mi fa No non posso Vabbè Si sveglia presto Devo andare a lavorare Io capisco E gli ho detto Va bene dai Cosa facciamo? Lei ci aveva uno sdraio Uno In due Uno in due Uno in due Faceva freddissimo Io ero vestita tutta Tipo col toppino No? Perché dovevo uscire Devo conquistare i tipelli No? E quindi No scherzo Ragazzi qua Io volo Per L'Australia Quindi ci siamo ritrovate In questo sdraio In due Così A dormire la nate Ok Ok Ci può stare Cioè Vedi Noi già lì Io che guardo le stelle Con il mio miglior amico Con il mio guardi Con la tua migliore E ci stavamo giù guardando Sì Perché anche io A 15 anni avevo Ti immagini Che era la stessa notte? Vabbè Passiamo alla prossima domanda Adesso Vediamo un po' Cosa sceglie Che tipologia sceglie Ho Voluto Avere Un bimbo Cosa? Sì Oddio Cioè 3 2 1 Ah anche tu Oh cavolo Ragazzi Voglio Però non voglio Allora Ho sempre voluto avere un bambino Perché io Sono innamorata dei bambini Cioè Mi piace veramente tanto Mi piacerebbe diventare mamma Un giorno Forse Però Ovviamente Non in questo momento Vabbè ma la domanda era Sì In generale Sì Anch'io Ho pensato Però è ancora troppo perso Penso Cioè che domanda sceglierà Ragazzi Seriamente Una un po' ambientata Sulla scuola Ci sta Ok Hai mai copiato a scuola Aspettate Ragazzi qua Ok ok Ci sono Mi avete toccato un punto delicato 3 2 2 1 Via Via Cos'hai risposto Sette Tra l'altro Ragazzi Ah ma perché tu sei furbo Io non ho copiato tutto Perché se no ragazzi Cioè era identico Questa è la tecnica del copio Per prendere la sufficienza Ma non faccio vedere che Che voi vorrei precisare una cosa Io ho preso sette Io ho preso sette e mezzo Quindi non è che Cambiato tanto Cioè per farvi capire Quindi mi è andata anche bene Dato che prendevo tutto basso Adesso vogliamo sentirla tu Vabbè Io sì Anche se a me è sempre piaciuto studiare Però molte volte mi sono sentita in difficoltà Perché magari Ci sono quel periodo del mese In cui hai più verifiche Nello stesso periodo E mi sono ritrovata quel giorno Che avevo due verifiche In un giorno E un'interrogazione Quindi mi pare che fosse stato scienze Ho dovuto farmi bigliettini Perché non volevo prendere un brutto voto Perché io se prendo un brutto voto Io sono disperata Cioè veramente Tocca a te Ok Tocca a me Uuuuh Dalla scuola si passa ai negozi Hai rubato in un negozio Hai mai rubato in un negozio? Oh sinceri eh 3 2 1 Ragazzi io No oggi Sono praticamente singoli Perché? No scherzo Sto scherzando Vabbè Però non raccoglio Cioè È stata una cosa un po' Involontaria Cioè non è che Capivo tanto Aspetta Non sto capendo Ripeti un attimo Ero involontario Non volevo farlo Passiamo 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 che è meglio Vai Oh qua devi essere sincero Il 100% Io sarò sincero Va bene Hai mai amato due persone Nello stesso momento? Via Cos'hai risposto? No Anch'io Brava Brava Sì È il suo primo no Tra l'altro Sì è il mio primo no Perché ci tengo anche A spendere 20 secondi Con questa risposta Perché io penso Che innamorarsi Sia veramente difficile E penso che Se ti innamori Veramente Non sei innamorato Consecutivamente Di un'altra persona Cioè se tu ami una persona È solo quella E tu Sì ok Tu hai solo me Dai Passa Che cattivo Io volevo essere un po' poetica Mangiato la pasta Con la maionese Hai mai? Mangiato la pasta Con la maionese Dai 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 Di qualcosa Dai Ovviamente sì Perché io l'ho vista Con i miei occhi Ragazzi la mia reazione È stata No Allora Tu mi hai visto Mangiare la pizza Riso Pizza Vabbè il riso è doppio Il riso ci può anche stare Però Allora Ho mangiato la pasta Con la maionese E avevo 14 anni E volevo mangiarla Perché sì Vorrei aggiungere una cosa Perché ho risposto Di no alla maionese Però Dato che a me Alla maionese Non mi fa impazzire Però Ho provato la pasta Col ketchup Cioè dopo tu critichi me Hai capito Ragazzi Questo lo ammetto E Era buono Mi è pure piaciuto Sì adesso Scrippiamo No Ah Posso fare una domanda Ma voi Siete team ketchup O team maionese Ragazzi Tutti nei commenti Commentate con O ketchup O maionese Nei commenti E noi Guarderemo tutto Passiamo alla prossima domanda Io questa volta Me la rischio Così Vai 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 Hai mai provato a fumare Direi una caz*****a 2 1 Quindi ragazzi sì Devo essere sincero Allora Io Ho provato La mia reazione Dopo averlo provato È stato questo Mai più E infatti Da lì Non ho più Toccato Una sigaretta Ok Adesso tocca te Allora Io come ha detto lui Ho provato Perché 23 C'è dicessi Dove Esatto Quindi E ho provato Però con tutta questa sincerità Del mondo Voglio dire che non mi è piaciuto Affatto Le sigarette Non mi piacciono Ve lo giuro E quando una persona Fuma vicino a me Mi fa venire la nausea Anche a me ragazzi Perché Non so perché Io molte volte Mi sposto proprio Anch'io Quindi Quindi Tipo Abbassare il finestrino Adesso la finestra Perché non so Vai passiamo Alla prossima domanda Vai Ok Siamo alla prossima domanda Questa domanda È molto interessante Per me soprattutto Pensato di fare un tatuaggio Sì Anche io sì Eh sì Però c'è tutta una cosa Ho pensato più volte Però alla fine Sempre ansia di farlo Per il semplice fatto Che rimane per sempre Quindi Prima di farlo Devo pensarci veramente Tanto bene Io invece Ho pensato Però non me lo voglio fare Perché Penso che ormai Tutti ce l'abbiano E se io ritengo Importante una cosa Perché farei solo Cose importanti Se mi dovessi Di trovare qualcosa Magari poi Tra due anni Me lo faccio Però in questo momento Penso che se ritengo Una cosa importante Me la tengo per me Perché tanto lo so Io non devo dimostrarlo Sulla mia pelle Voglio il mood Della scuola ancora Perché voglio sapere Questa Io ragazzi Io probabilmente Risponderò di sì Se è una cosa Sulla scuola Quindi Commentiamo Che sarà sì Vediamo Hai mai preso Una nota Che velo Dico a fare Regà È normale Che Mura Non può Prendere note E invece È benessere Anche ho preso Una nota Solo uno Io che non commento Ragazzi Non ve lo spiego Manco perché Sennò starei qua Tutta la giornata Perché Lasciamo stare Lasciamo stare Passiamo all'ultimissima Domanda E qui Schippiamo Entrami Oh Interessante Hai mai Fatto Cose Scomode Ne hai fatto Cose Scomode Scomode Non scomodi Scomode Scomode In realtà L'ho messo No In realtà L'ho messo No L'ho messo No Anch'io Non ho mai Io amo il limone Io amo la pesca Esatto Io amo il te La pesca Vediamo il video così Ragazzi siamo arrivati Alla fine del video Indovinate Dove è Fanny Ragazzi Sta dormendo E da praticamente Un'ora Che sta dormendo E Ciao Ciao Nanu Guardate la cotina Ciao piccolino Ragazzi Per farvi capire Guardate le zampine A sonno Guardate qua Sì ma perché Oggi ha corso Tutto il tempo Esatto E niente Noi siamo alla fine del video Vi mandiamo un grandissimo Bacione Cosa devo fare Ah vabbè Ormai è la mia parte Mi raccomando Andate a mettere like Commentate E iscrivetevi al canale Ma soprattutto Andatelo a seguire Su Instagram Che si chiama I ammura Trattino basso E nulla Noi ci vediamo con il prossimo video Quanti like vuoi? Quanti like vuoi Fanny? Se vai via Vuol dire che ne vuoi 30.000 Se rimani qua 50 Ok ragazzi 30.000 like questo video Fanny è andato via E niente Non ci becchiamo al prossimo video Abbiamo fatto il vostro video preferito E niente Ciao bellissimo Ci becchiamo al prossimo Ciao Mua Ciao 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 Grazie a tutti